Buongiorno, sono Tony Lagrotteria, segretario generale delle Arli Lombarde. Sono anch'io qui a Motta per la settimana internazionale per parlare dei temi dell'Europa e della convivenza, ritenendo che sia anche un ruolo del nostro movimento quello di approfondire questo tipo di contenuti provando a ragionare da cittadini d'Europa, in qualche modo ancora incompiuti, ma assolutamente una prospettiva da realizzare e che insieme auspico si possa contribuire a costruire.